Io amo l'Italia. Giornalista, scrittore italiano per scelta, come usa a definirsi, Magdi Allama è il candidato premier di Io amo l'Italia. Sovranità monetaria, famiglia naturale e lotta al sistema finanziario a cui leader dei maggiori partiti nazionali, sostenendo il governo Monti, avrebbero venduto il paese i punti del programma per sostenere un'Italia che sta diventando una nazione povera, dove le imprese chiudono, il 40% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese, i giovani sono disoccupati. Di tutto ciò sono corresponsabili coloro che stavano insieme al governo e che oggi fanno finta di litigare, ogni giorno uno di loro fa una sparata mediatica, l'altro replica, in questo modo si accaparrano il monopolio televisivo perché sono elezioni purtroppo decise dalle televisioni facendo passare in secondo piano i problemi reali dell'Italia e degli italiani che noi denunciamo. Abbiamo incontrato Allam nei nostri studi. Come mai questa strenua difesa della famiglia naturale quando anche Don Gallo apre alle coppie omosessuali? Evidentemente Don Gallo fa parte di un'altra chiesa che non è quella del Papa di Benedetto XVI che ha chiaramente indicato nella difesa dei valori non negoziabili tra cui primeggiano la sacralità della vita, del concepimento alla morte naturale e la centralità della famiglia naturale nella costruzione sociale. Io amo l'Italia, il governo con chi? Io amo l'Italia ha maturato quella che ho definito una sana follia di presentarsi autonomamente alle elezioni perché noi partiamo dai contenuti e non vogliamo mescolarci in contenitori dove dentro c'è tutto e il contrario di tutto. Noi siamo gli unici in Italia che promuoviamo il riscatto della nostra sovranità monetaria, legislativa e nazionale che significa concretamente uscire dall'euro ma uscire anche da questa Unione Europea assoggettata a banchieri e a burocrati così come siamo gli unici che ci proponiamo come il fronte dei valori non negoziabili che sono alla base della nostra civiltà. Ma se doveste finire il governo con chi è eventualmente un dialogo? Con coloro che condividono questi contenuti. Noi riteniamo che oggi bisogna essere estremamente rigorosi nel promuovere un nuovo modello di sviluppo, di Stato e di società perché diversamente non ci sarà possibilità alcuna di riscatto di questa Italia. Non è una crisi transitoria, contingente, è una crisi strutturale. Dobbiamo partire dalla speculazione finanziaria globalizzata, dall'ammontare di titoli derivati pari a 787 mila miliardi di euro per capire come mai oggi sono i cittadini quelli che pagano le conseguenze di una vera e propria guerra a livello planetario. Lei si sente italiano? Io sono orgogliosamente italiano da 40 anni ed è una italianità scelta, quindi non ereditata ma scelta e come spesso accade un bene che si conquista lo si apprezza molto di più di un bene che si eredita.